Si terrà domenica 31 marzo, la sedicesima edizione della Stracittadina, la passeggiata non competitiva di due chilometri aperta a bambini, a genitori e a tutti coloro che vogliono trascorrere una mattinata piacevole e rilassante, all'insegna del sano movimento fisico e della condivisione allegra. Quest'anno la corsa tornerà ad animare le strade del lungomare di Agropoli e i partecipanti partiranno dopo il via dell'Alf Marathon. L'organizzazione della Stracittadina viene da sempre curata dall'Associazione Culturale Pegasus e in particolare dal suo presidente Mauro Gervasio, un'associazione questa costantemente impegnata a promuovere interessanti iniziative dedicate alla sana socializzazione, all'incontro di realtà culturali anche lontane da quella quotidiana. Per molti anni ad esempio l'Associazione Pegasus ha organizzato il prestigioso Folk in Feste, chermesse di gruppo folcloristici di altissimo livello, giunti nel Cilento provenienti da ogni parte del mondo, senza contare decine di gruppi provenienti da tantissime località della Campania e di tutta Italia. L'auspicio è che in un'ottica di autentica valorizzazione di iniziative di qualità, nei prossimi anni anche il Folk in Feste possa essere ripreso e ulteriormente sviluppato. Le potenzialità ci sono tutte, ciò che ancora manca è una risposta lungimirante da parte degli enti politici ed economici, chiamate a dare risposte soddisfacenti alle richieste turistiche e culturali del territorio occidentano. Oltre all'Associazione Pegasus, la manifestazione della stracittadina, viene promossa da un'altra importante associazione culturale attiva sul territorio, ABC, Agropoli Bene Comune. La partenza è prevista alle ore 9 in via risorgimento e seguirà quella dell'Alfa Marathon, trofeo Pietro Mennea. Sarà possibile iscriversi dagli ore 8 presso lo stand allestito in zona. Anche se nelle prossime settimane i responsabili delle associazioni Pegasus e ABC si recheranno nelle scuole elementari e medie agropolesi per illustrare al meglio l'iniziativa e, anche in queste occasioni, sarà possibile iscriversi. La preiscrizione può essere effettuata anche presso la libreria Largo Libro ad Agropoli, in Viale Lazio 16, adiacente via Salvo d'Acquisto. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile chiamare Mauro Gervasio al numero 392-3257-655 oppure inviare un'email a largolibrochiocciolagmail.com